Come migliorare il servizio? Come ottimizzare i trasporti? Come fornire un servizio sempre più efficace alla popolazione? La mente di un volontario, anche se stanca dai lunghi turni, pensa sempre a come aiutare la comunità in maniera efficiente e funzionale. È venuto in nostro aiuto un vecchio amico, Orso Soccorso, assieme a una piccola assistente. Riusciranno a dare nuove idee ai nostri ragazzi? Per questo ci siamo iscritti al bando per il bilancio partecipativo del Comune di Vignola. Un pulmino polifunzionale per il trasporto di persone in contesti socioassistenziali agevolerebbe il nostro lavoro ad aiutare e supportare tutta la comunità, specialmente quella più fragile. Aiutateci ad aiutare, andate sul sito del Comune e votate la nostra proposta. Un grazie infinite alle persone che ci voteranno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!